Il suo tempo c'è un film in molte che è cinematografico, anche turistico e pertanto attraverso la cultura del cinema cerchiamo di produrre anche la città. Oggi ricordate la rinuncia di tutti un'attore artistica, nella inizia, nella ronde, città, in esplorità, in esplorità, in esplorità, in esplorità. Cosa è il cinema? Sì, speriamo che abbiamo quella fortuna, quindi avevamo, senza togliere niente al religio, Gianluigi Rondi che era già all'epoca un personaggio, era un gigante che ha aiutato molto gli incontri del cinema. L'obiettivo è quello di attrarre l'interesse internazionale. Io sono convinto che con gli sforzi che siamo facendo, possiamo raggiungere.